Il Pineto fa un figurone contro la corazzata Ravenna ma perde 0-3, sempre ai vantaggi. Prestazione apprezzata dai tifosi, comunque in festa per la salvezza anticipata, la più che buona prestazione del gruppo su tutti i Sant'Angelo con 24 lunghezze e in attesa della Coppa Italia in programma il 14 aprile contro Cuneo e Porto Viro. La secolotta parzialmente col morale sotto i tacchi per la già avvenuta retrocessione nella prima frazione, poi, nonostante un'altra buona serata di Patriarca, il team di Lanci, senza Marshall e Cantagalli e con l'impiego di seconde file, giovani compresi, lascia via libera Ai, si fa per dire, motivati pugliesi di un Castellana Grotte finito in A3 come Ortona. In A2 femminile, ancora senza A7 vinti la Sirdeco Pescara sul campo, stavolta dell'Olbia. In B1 altro riposo per la capolista Altino, mentre l'Adriatica presteramo, dopo il vantaggio iniziale, crolla, pur lottando strenuamente a Castellana Grotte, ma senza conseguenze per una classifica da tempo tranquilla. Le imprese della giornata riguardano la B2, un brillante Montesilvano sul neutro portafortuna di Pineto per l'indisponibilità del Palaroma, dopo una falsa partenza travolge, grazie al trio Cipriani-Moccia-Spagnoli, 51 punti in tre, il tosto Filottrano in un match tiratissimo, tre punti che valgono il quarto posto in classifica. Chapeau! Il colpo che vale triplo è però del Gada Pescara Project, che espugna il terreno tutt'altro che semplice del Massa Lombarda, grazie a una magnifica prestazione collettiva che permette al sessetto di schiazza di allungare il vantaggio fino a sette punti sulla quart'ultima piazza, area rossa della retrocessione. Un gran momento, insomma, alla vigilia dopo la pausa pasquale del supermatch tutto abruzzese, giorno 6 aprile, ore 17.30 al Paleletra di Pescara, contro le cugine della Iulia Gas. Grazie a tutti!